Oggi vogliamo occuparci della scelta, della designazione del candidato sindaco del Partito Democratico. Il nome è caduto su Rinaldo Melucci, presidente dello Ionian Shipping Consortium. Una decisione, una scelta calata dall'alto che ha trovato la pezza a colore, ha trovato la formale ragione del nome che unirebbe tutti. Non è affatto vero. È una scelta che ha cercato di salvare il salvabile, però i malumori all'interno del PD ci sono, sono tanti. Basti pensare alle dichiarazioni che ha fatto Gianni Fabrizio, consigliere comunale, il quale ha detto che non c'è nulla di personale contro Melucci. Stiamo condannando la metodologia di scelta, cioè il nome non condiviso, il nome calato dall'alto. Come era stato calato dall'alto il nome di Baldaconi e si è fatto ferro e fuoco, in questo caso si è verificata la stessa cosa. Lo statuto del PD prevede le primarie in caso di pluralità di nomi e pluralità di nomi c'era. Penso a Lucio Lonocce, a Gianni Azzaro, a Piero Bitetti e altri uomini della coalizione, penso a Nardoni, penso a Pinolessa e quant'altro. Ma al di là di questo torniamo nell'alveo del PD, del Partito Democratico. Nome calato dall'alto. Avete visto tutti lo scontro tra Pelillo e i suoi ex figli di Liberdem? A un certo punto arriva l'uomo di mediazione, Walter Musillo, evidentemente trova un accordo, un momento di sintesi con Pelillo e dice puntiamo su Melucci. Bene o male Pelillo accetta e quindi esce questo nome di Rinaldo Melucci. A me dispiace un fatto che in questa battaglia che Liberdem aveva portato avanti è uscito in avanscoperta Gianni Azzaro, il quale ha preso posizioni molto dure politicamente e dialetticamente parlando nei confronti di Pelillo. Ha sottolineato la necessità anche delle primarie, ovviamente, però poi alla fine anche all'interno dei Liberdem ho notato questa situazione, che Gianni Azzaro di fatto è stato lasciato solo, perché Gianni Azzaro ha fatto la battaglia all'inizio insieme agli altri Liberdem. Non so quanti Liberdem sono rimasti con Azzaro e quanti Liberdem si sono riappacificati con Pelillo, però non ho capito la posizione di Musillo. Prima Liberdem, poi di nuovo d'accordo con Pelillo. Gianni Azzaro certamente non ha ricevuto la coerenza di altre persone dei Liberdem, che evidentemente lo hanno mandato in avanscoperta, ma non l'hanno poi supportato, sostenuto alla fine. Cioè, caro Musillo, c'è stato, lo sappiamo, un momento di crisi, di frattura politicamente parlando tra lei e Pelillo, però poi all'improvviso, mentre Gianni Azzaro, caro Musillo, fa la sua battaglia, lei ricuce con Pelillo e tutti d'amore e d'accordo. Per me questa non è coerenza politica, ma al di là delle beghe interne che ci sono nel PD non mi interessa, sta di fatto che questo nome, Rinaldo Melucci del Partito Democratico, non lo vedo un nome tanto nuovo, visto e considerato che dietro Melucci ci sono gli stessi vecchi uomini del PD. Dov'è la novità? Dov'è l'uomo nuovo che vuole disegnare una nuova Taranto, una terza Taranto? Non ricordo neanche quello che ha detto. E poi, caro Pelillo, hai lanciato la candidatura di Melucci. Melucci quindi candidato del PD, candidato di Pelillo, anche e soprattutto di Pelillo, poni questo nome e perché non l'hai fatto condividere questo nome dal resto della coalizione? Il PD fa una conferenza stampa sabato, una conferenza stampa all'aperto mi pare, e presenta Melucci. E il resto della coalizione del centro-sinistra? Va bene che la coalizione di centro-sinistra non esiste di fatto, perché ci sono partitini e movimenti da prefisso telefonico quanto a consensi a percentuali, però se mi parlate di coalizione non potete uscirvene subito e dire Melucci è il candidato del PD, lo dovevate condividere con il resto della coalizione o di questa pseudo coalizione, un qualcosa di farlocco? Ma comunque tutti queste spie, questi indici dimostrano quanto di poco democratico ci sia nel partito democratico. Io prevedo un tonfo elettorale per Melucci, prevedo un PD ai minimi storici, un PD sempre più lontano dalla base, un PD che si è democristianizzato nel modo peggiore, politicamente parlando, e che oramai non ha nulla dell'originaria tradizione comunista, post comunista, è un qualcosa di completamente avulso, lontano dai cittadini. Tante lotte per le poltrone, ma tanto signori del PD, le poltrone a sfilarvele saranno i cittadini. Non mi interessa chi vinca a Taranto, chi vincerà, ma è bene che il PD se ne vada da Taranto, perché il Partito Democratico ha avuto le maggiori responsabilità nell'amministrazione Stefano, perché pur di mantenere i due assessorati, il PD, due o tre assessorati, il PD, cari signori, era il partito di maggioranza relativo, poteva far cadere Stefano, ma non l'ha fatto. E allora se si parla di fallimento dell'amministrazione Stefano, la responsabilità maggiore è del Partito Democratico. Io personalmente non voto PD. Senza bavaglio, informazione libera, sempre! Grazie a tutti!